La bella argentina si sia mai meritata di stare con un uomo del genere. Simona Itzo torna sull'amore tra Francesco Monte e Cecilia Robeguez in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo. La donna non richiene che la bella argentina si sia comportata bene nei confronti del suo ex compagno e non l'ha mai nascosto. Oggi fa una riflessione, che parte dal passato e si chiede se Cecilia si sia mai meritata di avere accanto un uomo come Francesco. Ha detto che non avrebbe più guardato la televisione, spero che l'abbia fatto davvero. Francesco è così bello ed elegante, mi chiedo se Cecilia se lo meritasse. Non so, aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra, non penso che lui abbia intenzione di riprendere questa storia. A lei, da sceneggiatrice, consiglierei di dire, amo Monte, sarebbe un vero colpo di scena. Ignazio e Cecilia, quello che mi chiedo è se la relazione resterà in piedi anche quando si spegneranno le luci rosse delle telecamere. Penso che abbiano dentro di sé degli sceneggiatori, a volte buoni, a volte ottimi. Da un punto di vista mediatico sono fortissimi Simona e di parte perché conosceva già Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e Donne ha frequentato la scuola di recitazione diretta da Fioretta Mari e Rossella Izzo, sorella di Simona. Fu proprio Cecilia a raccontarlo nel corso della permeanza e nella casa del grande fratello Vito, quasi come se volesse giustificare il fatto, che la regista avesse difeso a spada tratti il suo ex fidanzato Monte chiede che Cecilia non sia attaccata a difendere Cecilia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Proprio nelle ultime ore, il bell'attore ha chiesto nel corso di un'intervista, che Cecilia non sia insultata a che Cecilia non sia insultata a oltranza sui social. Grazie a tutti.